Cuccioli in casa Andiamo alla scoperta della casa del gattino Mao. Quanto è bello il trenino di legno! Ciuf ciuf! Che bei colori ha il pagliaccio! Verde, rosso e giallo. E l'aquilone vola nel cielo. Blu, verde, rosso e giallo. Che orsacchiotto grande! E quanto è morbido il suo pelo! Quanto sono belli questi girasoli! Ti piacciono Mao? Solleva la delicata tenda di cotone e vediamo fuori dei bellissimi fiorellini colorati sul prato. Oh, qui c'è il bucato! Cosa si nasconde dietro il ruvido asciugamano azzurro? Delle bellissime farfalline azzurre. Una, due, tre e quattro.